musica 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 presentazione, nome? Giorgio, Pio Serena il compito di oggi che fai oggi? io che faccio io? che faccio? tu? scusate mi sono perso qualcosa mi sei perso qualcosa si è vero siamo rimasti senza il nastro isolante un attimo Manola un attimo c'è stato un piccolo controscente che ci siamo dimenticati il nastro e lo siamo facendo a casa fatto in casa cioè vale dire ora? ora in questo preciso istante mia cognata alle 11? si meno 5 ci stavamo preoccupando che era troppo presto e invece ma non mantieni abbiamo una sorella che è senza scarpe allora anzi abbiamo una sorella che ha il numero di scarpe bello sta scarpe come si chiamano queste scarpe? si chiamano si chiamano si chiamano metti e vai scappa e vai scappa e vai la preoccupiamo allora dai vuoi stare l'esimo? no più c'era di sotto quanto mi dà? no ne so vediamo sotto sotto aspetta che erano uscite da luce sotto sotto meglio prendono tu eh si si ciao ragazzi entro ciao cosa ne pensate? speriamo che da quando vi sei sposato metti un po' di senso non ci fai mettere più benzina alla barca speriamo perché io con la frema ho già stato con i compagni con la barca al mare conviene è molto confonata è molto confonata è molto confonata è molto confonata camisa burlesca non ti fai più con la mia non ti fai più con la barca ti potevo fare un regalo ecco pina di pete sta la barca ecco questo ti vogliamo bene dai il servizio lo sponso ah? come è andato? è andata benissimo è emozionato? si stavo bene stavo è bene vediamo Marco mi dà una mano a fare questo intervista non è vero non è vero già sta tremando sono scusuti anche i pantaloni l'emozione non lo ferma più la fede la fede ce l'ha è scusato dove si vede? signora guarda vieni qua ecco dicevo l'intervista come ti sentite? ah più rilassati tuiglio davvero più rilassati davvero più rilassati dai perchè la bimba non sapeva dove dovevo lasciarla me l'ha data a me dai comunque ti ha pensato è contentissimo contentissimo no la sposa si è già pentita è vero se no si doveva sposare con me no no addirittura abbiamo le riserve abbiamo le riserve dietro le pinte forse ci sposeremo in un'altra vita in un'altra vita ci rincontreremo marco arriva del mare ma lo capisco che ho portato qua lo capisco che è così adesso perchè è pensato prima si è fatto furbo così no la casa non si è negliata ahhh dico vero io ti faccio vita apposta poi mangiare mille lire come voi di cento lire ti capisco di cento lire per fare mille lire sana ahhh appostate è vero è vero è vero è vero è il tiro è il tiro cangiare mille lire allora se la giochi consumare duecento lire io in tonno non lo faccio come diceva guarda fammi nient'anni duecento lire mancano fammi nient'anni sane e qui c'è una pintea che ho i ciechi no bucate 10 euro bucate 50 centesimi la pintea all'ultimo nel piano agli giù diceva fammi fare la seconda palla e io ho iniziato con un euro mi faceva la seconda partita a 10 all'ultimo e io ho iniziato il bucate per la cia mia e io ho iniziato il bucate per la cia tua e io ho iniziato il bucate a me ha voluto sempre questa seconda partita ma mi sono venuto un bucate Luca mi sono così perché pensato prima si è fatto furbo così no la casa non si è nerviata ahhh dei bucate io la città a costa mangiare mille lire per voi io ho iniziato io ho iniziato io ho iniziato io ho iniziato a costa è bene io ho iniziato io ho iniziato io ho iniziato io ho iniziato biancata ti che 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 Voi, vai, 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 vai! Questo è il bicchiettino a quello che mi fa. Non mi lo invio, non mi lo invi, non mi lo dico. Se mi lo invio, non mi lo dico. Non prendi se ci mi hai dato. Giuseppe mi chiamo e Pinto mi tengo, aggiunto Napoli e Lorena, aggiunto Napoli e Turchia, mi gialluca, di l'amore mia. Grazie a tutti.